Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il cuore di Gesù e la carità. Il cuore di Gesù ci insegna un comandamento nuovo, la carità. La carità era una virtù sconosciuta al mondo pagano e anche al popolo di Dio, nonostante il Signore l'avesse più volte richiesta. L'amore al povero, il perdono dell'offese, l'aiuto agli infelici erano virtù quasi ignorate. Dal cuore di Gesù sgorgò la meravigliosa rivelazione. Tutti siamo fratelli e dobbiamo amarci e soccorrerci a vicenda. E questo è il mio precetto, che vi amate a vicenda come io ho amato voi. Il cuore di Gesù praticava costantemente la carità fraterna. Alle parole univa il suo esempio, che è per noi una scuola eloquente. Guariva gli infermi, risuscitava i morti. E asciugò le lacrime di Marta e Maria, risuscitando Lazzaro, loro fratello. Sopportò gli insulti del popolo, la violenza delle turbe, le ingratitudini degli apostoli. Perdonò a chi lo offendeva e lo percuteva. Giuda lo tradì ed egli non rifiutò di baciarlo e di chiamarlo amico. Pietro lo rinnegò e Gesù lo guardò con amore. Pregò per i crocifissori scusandoli davanti al Padre. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Il cuore di Gesù promise grandi grazie a chi avrebbe praticato la carità. Beati i misericordiosi, poiché troveranno misericordia. Miracolo, il santo curato d'Ars Il santo Giovanni Maria Vienne, parroco d'Ars, devotissimo del cuore di Gesù, ha prese dal cuore divino il grande precetto della carità fraterna e tutto infiammato d'amore per i suoi fratelli esclamava «Quanto è bella la carità! Essa deriva dal cuore di Gesù, che è tutto amore». Preghiera O cuore di Gesù, cuore pieno di amore e di compassione, cuore tutto dolcezza e amabilità, quanto sono diversi i nostri cuori dal Tuo. Infondi nel nostro cuore una scintilla della Tua carità, affinché amiamo il nostro prossimo come Tu ci chiedi. Cuore di Gesù, rendici forti e costanti nell'adempimento della carità fraterna. Offerta Se abbiamo qualche antipatia o avversione, avviciniamoci al nostro prossimo, vincendo il nostro amor proprio. Devozione Facciamo qualche atto di cortesia verso il prossimo. Giaculatoria Cuore di Gesù Converti i peccatori Salva i moribondi Libera le anime sante del Purgatorio Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Salva i moribondi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.